Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube A me viene già da ridere onestamente perchè insomma stiamo un attimino toccando un po' il paradossale Ci siamo visti, boh, una settimana e mezzo fa con il video sulla nuova patch Stiamo facendo video su tattiche, meta, bla 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 Raga, nuova patch, ebbene si, nuova patch uscita su pc Quindi verosimilmente potrebbe uscire su console settimana prossima A meno che non esca tra mercoledì e giovedì di questa settimana Cosa molto difficile, quindi probabile che la vedremo lunedì barra martedì prossimo E niente, io direi senza perdere ulteriore tempo di andare a vedere di che cosa si tratta Visto che per me sono state fatte anche delle cose giuste Però siamo al decimo aggiornamento in meno di tre mesi Voglio dire, un attimino forse c'era qualcosa che non andava prima Comunque, passiamo subito alla classica schermata Ed eccoci qui che ci attende proprio l'aggiornamento Andiamo subito a vedere quelle che sono le inevità di gameplay Che chiaramente sono quelle che ci vanno a interessare Sono stati apportati i seguenti cambiamenti Ridotta la consistenza della traiettoria della palla Dopo aver performato in maniera con successo Una skill move, ovvero una skill che implicava il lancio del pallone nell'aria Questo quindi vuol dire ad esempio la palla lanciata dopo il drag back Il palleggio, eccetera eccetera Difatti ci dice proprio che è stata ridotta la consistenza dei palleggi fatti durante la corsa del giocatore E dice che questa cosa si vede in maniera più notevole nel momento in cui il portatore di palla sta correndo Quindi quando tenete il tasto dello scatto premuto Un'altra cosa molto interessante è che è stata ridotta l'efficacia dei pallonetti fatti al volo Se fatti dai 35 piedi, quindi 10 metri e oltre Quindi che cosa vuol dire questo? Che sono andati a cercare di evitare quel fastidioso bug che accadeva facendo palleggio Più pallonetto al volo che praticamente si andava ad insaccare Soprattutto se veniva fatto appunto da poco dopo il dischetto del rigore in posizione obliqua Per decenza quello non me l'avevo mai un po' portato Per paura si diffondesse come il covid e non lo facevo neanche io Quindi per fortuna avremmo questo problema risolto una volta e per tutte Così come probabilmente non vedremo più la gente che dal kickoff partirà palleggiando come dei pazzi assassini Andando nelle nostre porte e causandoci i peggio nervi Quindi su questo direi che insomma qualora dovessero effettivamente verificarsi questi aggiornamenti Fino ad ora ci siamo Un'altra cosa strana però a mio modo di vedere è che è stata ridotta considerativamente Quindi in maniera molto considerata La probabilità dell'arbitro possa fischiare la fine del match durante una potenziale occasione da rete La postilla è la cosa che mi preoccupa La postilla infatti dice come risultato di questa cosa il recupero potrebbe edulare per un periodo leggermente superiore Leggermente superiore Perché non bastava subire gol al 94esimo quando venivano dati due minuti di recupero Al 98esimo quando ne veniva dato uno di recupero Perché se ci avete fatto caso l'arbitro solitamente fischiava la fine della partita al 90% Nei casi in cui vincevate i due gol Vincevate i tre gol quindi quando questo gol non ci serviva Quindi adesso secondo me la cosa potrebbe diventare un pochino Un pochino ambigua Quindi questa cosa non so se prenderla come una roba positiva o una roba negativa Vedremo effettivamente l'impatto Ancora sono state modificate le ulteriori problematiche Quando un difensore stava difendendo contro il bridge Facendo il movimento jockey ovvero l'L2 Il difensore poteva temporariamente slideare in maniera inintenzionale Quindi poteva fare evidente l'intervento senza che ci sia stato richiesto Qui c'è da applaudire C'è da applaudire devo dire la verità GG quella cosa che abbiamo detto tutti Andava effettivamente a patchare il bridge Ma già prima prima di patchare il doppio passo Patchavate sto cavolo di bridge Perché non poteva fare effetto game break Era la FIFA Street che facevano il bridge E il difensore rimaneva tipo il bronzo di Riace paralizzato Quindi GG GG giusto così che abbiano insomma migliorato questa cosa Questo non vuol dire che il bridge sia morto Perché comunque il bridge è una skill fatta bene Qualora performata nel momento giusto Comunque vi dà la possibilità di prendere un bel speed boost E quindi di andare a magari porvi in condizione di tirare eccetera eccetera Quando un difensore performa un tackle Quindi un contrasto Che non ha prodotto il recupero del pallone Il piede del difensore andava ad attraversare parzialmente il pallone Dice quindi che questa cosa è stata Insomma È stata insomma corretta E dice che questo cambiamento non impatta il successo e il fallimento del contrasto E adesso il contrasto da parte del giocatore è in grado maggiormente di andare a contatto col pallone in queste situazioni In seguito a specifiche azioni Il portiere passava la palla in match offline Il team della squadra La CPU della squadra che stava difendendo Non andava a pressare l'attaccante per recuperare il pallone Quindi questo diciamo che in un offline match poco ci andava a interessare Dovrebbero effettivamente aver risolto il bug del timer delle rivals Che alle volte si frizzava e non scendeva Dovrebbero aver risolto il problema relativo alla barra del transfer market Che non vi faceva vedere le offerte Alcuni problemi di testo eccetera 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 Ma fondamentalmente quelle che sono le cose che a noi maggiormente interessano Sono ovviamente quella relativa al bridge Quella relativa ai palleggi E quella relativa appunto al pallonetto dopo il palleggio Che era un bug molto molto fastidioso Quindi devo dire che insomma Questi aggiustamenti mi possono anche far piacere Però voglio dire Stiamo veramente scadendo nel fall Adesso se veramente il bridge neanche funziona Torniamo veramente a FIFA 20 voglio dire Ed è la prima volta tra l'altro che vanno a patchare una skill Che è stata inserita durante l'anno per la prima volta Quindi novità assoluta Detto ciò per quanto riguarda la patch e tutti Io volevo passare un attimo su Footbin E dirvi due paroline sul Boateng che è uscito Eccoci qua Perché questo Boateng è una carta molto interessante Per tanti motivi Il primo è il costo Perché costa 200k Che con i non scambiabili Ovviamente è un prezzo che viene ridotto Un'altra cosa che me lo rende molto interessante È il fatto che chiaramente Linka Neuer Linka Davis Linka un po' tutto Linka anche un eventuale Goretzka Insomma linka E questo è molto interessante Molto interessante sono anche le sue statistiche Difatti ha addirittura 95 di passaggio lungo Questo vuol dire filtrantoni 87 di passaggio corto Per un difensore a 75 di agilità Addirittura 96 di reactions E 98 di freddezza Ha statistiche difensive fatte al top Con 97 di contrasto in piedi 93 di scivolata 89 di mentalità difensiva Che significa tanti autoblock 97 di forza 90 di aggressività Quindi statistiche al top per il buon Jerome L'unica cosa è che ha 73 di accelerazione E 86 di velocità scatto Cosa vuol dire il 73 di accelerazione? Vuol dire che praticamente lui sui primi passi Va a perdere Quindi non è così esplosivo Perde contro l'attaccante che sta partendo Mentre con l'86 di velocità Unito anche al fatto che è un giocatore di 1,92m È chiaro che magari con la falcata un po' recupera Però su quel primo metro In un meta dove al momento dominano i filtranti Ho una paura spropositata Che possa fare un po' di fatica Ciò nonostante Vi ripeto È un bel giocatorino Io anche solo per tenerlo nel club E potermelo rivendere Per poter provare In futuro un Davis Un Klosterman Un Neuer Eccetera eccetera Io lo sbloccherei Diciamo che sui 100-150k Se riuscite un po' ad abbassare il prezzo Secondo me è un affare Il buon Il buon Jerome Quindi Promosso Ovviamente stile intesa Manco a dirvelo Come al solito Per i difensori centrali Ombra E niente ragazzi Per questo video è tutto Io vi ringrazio come al solito Per la visione Che Dio ce la mandi buona Speriamo che sta patch Risolva un po' di problemi Magari ci rivelocizzano anche un po' il gioco Che non farebbe male Vi ricordo di lasciare un like e un commento Vi ricordo di iscrivervi al canale Che stiamo andando una bomba E mi fa super piacere In descrizione trovate tutte le info Per le live giornaliere E niente ragazzi Un salutone Dal vostro Riberowski Ciao ciao Ciao